Passiamo a quello che è quindi Final Fantasy XII Final Fantasy XII all'epoca, come è andato ragazzi? Anzi allora... No perché ha fatto il mutuo... Ok, come è andato ragazzi? Chi vuole iniziare a Final Fantasy XII all'epoca? Non giocato all'epoca quindi... Ah, non l'hai giocato? Neanche io? Ho giocato ma non l'ho giocato Allora vai, vai Emil Allora, dico la verità All'epoca non l'ho finito, l'ho finito tempo dopo Perché era molto diverso tra gli altri Final Fantasy Perché comunque era ambientato nel mondo di Ivalice Dove già erano ambientati Final Fantasy Tactics e Vagran Story Quindi un mondo ben contestualizzato Non era un sequel perché era da tutta altra parte del mondo Un'altra era per un'ambientazione era quella lì Però era molto più politico come Final Fantasy Quindi la trama non era più una storia d'amore sullo sfondo Magari meno emotivo Rapporti tra i vari protagonisti erano curati Però erano meno di impatto Quanto più... Quanto più... Sfumati, diciamo E non mi piacciono principalmente Il sistema di combattimento Perché il Gambit System ti permetteva essenzialmente Di non fare niente Se lo... Settavi a un certo modo Praticamente i personaggi andavano in battaglia Combattevamo da sole Quindi tu guardavi semplicemente il gioco Poi con la versione internazionale Hanno sistemato corretto tante cose Oggi l'ho rivalutato molto meglio rispetto all'epoca Mi piaceva la storia Mi piaceva visivamente Che era molto bello, molto bello Però l'ho mollato dopo una quarantina di ore Dicendomi Oh, non succede nulla fondamentalmente Ok Cap, vuoi dire la tua? Ah no, aspetta Lì l'ho giocato Ho iniziato a giocare all'epoca Quindi intervengo io Una cosa un po' simile alla tua Al contrario però Di fare le fasi 10-2 Questo l'ho preso al lancio L'ho preso subito E... L'effetto straniante Di questo nuova ambientazione Nuovo sistema E via dicendo Non posso negarlo Mi mise parecchio in difficoltà Però alla lunga Credo di essermi trovato piuttosto bene E... Mi stava piuttosto divertendo Io invece al contrario di te Ho trovato il Gambit molto interessante Perché comunque potevi mettere in pausa In qualsiasi momento E... Parentesi In un modo molto più efficace Di quanto si può fare Infatti si è terremake Chiusa parentesi E... Quindi... Sì, diciamo che forse ero io Che non ero bravissimo col Gambit Mi rendevo conto di non essere Proprio ferrato su alcune cose Che però riuscivo a rimediare in tempo reale Quindi da quel punto di vista A me è piaciuto molto Graficamente Era assurdo Per essere un gioco PS2 Infatti è uscito tardissimo Che la PS3 praticamente Stava già andando sui negozi Se non era già fuori Io il problema però Quel 12 all'epoca E che lo iniziai su PS2 Con la PS2 normale Poi ci fu... Mi pare che si potesse giocare Anche in widescreen Quindi... Feci dei passaggi diversi Che mi... Tra cambiamento nel monitor E vi dicendo Che mi interrupero la... La frizione Poi arrivo alla PS3 E comprai l'adattatore Della memoria di card Per poter portare il file Perché non avevo ancora finito il gioco Giocherò sulla PS3 Però non mi piaceva tantissimo Perché la grafica si spalmava Quindi ho avuto un'esperienza Piuttosto frammentata E si concluse col fatto Che quando decisi Di darci dentro a cannone E... E dedicarmi alla versione PS2 Giocata su PS3 Mi raggiunse Il Y-Lod L'head giallo Della PS3 Che era l'equivalente Del Red Ring of Death Della 360 E quindi persi tutti i file Tutti i save Di tutti i giochi Che avevo sulla PS3 E prima di tornare Su Final Fantasy 12 ci misi Veramente tantissimo tempo All'epoca però Effettivamente era Credo che fosse molto avanti E ho apprezzato La narrazione politica Per quanto difficile A digerire E credo anche Che fosse uno De quei momenti In cui in Square Iniziava a buttare soldi Veramente In maniera esagerata Perché tra le CG Di altissimo livello Le cazzi indoppiate Ad ogni piesso spinto C'era scena animate Interpretate Credo che abbiano buttato Un bordello di soldi Cap Vinci tu Allora Io ho un po' Disidimito Dalle serie continue Su X2 E un po' distrutto Da Il fatto che L'X non mi piacque L'ho preso Un pochino così Però posso dire Che questo è uno Dei mie Final Fantasy Preferiti Dopo Il 9 E il 6 Pur riconoscendo Il fatto che È costruito Malissimo Praticamente È fatto È un puzzle Dove hanno preso I pezzi Invece di incastrarli Hanno messo un po' Di colla Messi di fianco Per creare Una sorta D'insieme Che però Non ci azzecca Non cazzo Allora La cosa Posso dire questo È l'unico Final Fantasy Dove Io Mi Dove Fantasy Ha finalmente senso Ok Tutti gli altri Tutti gli altri No Principalmente Perché Perché io ho un'accezione Molto Occidentale Del Fantasy Quindi per me Il Fantasy È un mondo Con tante razze diverse Ognuna con i propri quirk Ognuna con le proprie Caratteristiche Ognuna con le proprie Culture Ognuna con le proprie Con le proprie Almi Con la propria estetica Con il proprio Modo di fare Che si vive tutti insieme Cioè per me È la classica città Dove ci sono gli erfi I nani I gnomi Gli erfring Gli umani I mezzerfi E cosa varia E Final Fantasy 12 Con l'ambientazione di Ivaris È esattamente quello Perché ci sono I quiera I Gli umani Ci sono le conigliette Da 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 sbattimento Ecco lo sapevo Più Più Tutti gli altri Quindi Mi piace molto Il fatto che Che fosse Un'ambientazione Estremamente A terra Estremamente realistica Estremamente plausibile Con una storia Effettiva Alle spalle Perché Vanguard Story Mi ha dato che Se non sbaglio Prima Anche Tacti No Tacti Si è ambientato infinitamente Dopo Comunque Adesso nella timeline Forse mi confondo Però C'è tutta un'evoluzione Ha tutta una sua mitologia E tocca temi Anche abbastanza importanti Come per esempio Si fa domande Molto interessanti Sul concetto Delle armi Di distruzione di massa E Come sia giusto Chi debba possedere Armi di distruzione di massa E queste cose Implicano Per la libertà Di giudizio Dei popoli E dei sovrani Che gestiscono i popoli Cioè sono tematiche Abbastanza forti Poi Molto influenzato Da Star Wars Ma in modo buono Perché questo è uno Star Wars Bello Non è uno Star Wars brutto E Visto che la storia Va uno per uno A tantissimi pezzi Insieme E un'altra cosa Che ho apprezzato molto Del 12 E come Abbia avuto Un adattamento In inglese Fenomenale Qui Square Chi fece l'adattamento Decise di andare Un po' per conto suo E secondo me L'ha azzeccata Esattamente come Fu l'adattamento Di Final Fantasy 6 Perché Qui ci fu fatta Una cosa all'inverso Di Final Fantasy 9 Nel giapponese Originale Parlavano tutti Giapponese Invece l'adattamento Se ne sono usciti Con Un Con un Con un adattamento Che ha creato Gli accenti Quindi Tutti i personaggi Che venivano Dal Dal Impero Erano inglesi E qui Per esempio Se qualcuno Capiva questa cosa Poteva intuire Fin dall'inizio Che Balti È doppiato Da fantastico Eremi Gideon Ermi Doppiatore Che poi Ha avuto Anche il suo volto Renderizzato In Call of Duty Advanced Warfare E io L'ho amato In Dragon Age 2 Ho fatto Parecchi ruoli Comunque Gideon Ermi Accento inglese Baltia Viene da lì E uno poteva intuirlo Gli abitanti di Damasca Hanno tutti L'accento americano Così come Gli abitanti Degli altri Vari luoghi Hanno tutti Accenti diversi Se non sbaglio Quelli della città Furtuante Sono garresi Come accento Non ricordo male Comunque C'era molta cura Messa nel mondo Le conigliette Parano tutte quante Anche loro Accento tipico Quindi Era davvero Un sacco figo Per questo E io L'ho adorato Per quello Poi Il gioco Il gioco è estremamente Occidentale Come taglio Mi permetto Di esamina Eccezionale Mi permetto Di citare Che il doppiatore Di Baltiae E questo lo dico Anche in favore Di Di Geru e Black Il doppiatore di Baltiae In Final Fantasy XII È lo stesso Di Bix In Final Fantasy VII Remake E io l'adoro È proprio Secondo me Una spanna Sopra Sopra gli altri Per espressività Carisma E via dicendo Quindi Se Vai Devi sentire Lui ha doppiato Anche molte unità Di Warhammer 40.000 E lì Flexa davvero I muscoli Perché doppiano Gli umani Ma tipo Gli occhi Gli erdar Ha un range vocale È bravissimo Veramente bravissimo Molto interessante L'appunto Che hai fatto Sull'accento Ma le Le tizie Le conigliate Che maledizione Che non mi ricordo mai Cosa C'è Ha un accento Tipo australiano Qualcosa del genere Non mi ricordo Adesso Leviera Leviera Vabbè Mi informeremo dopo Qualunque sia Va benissimo Simo Manchi tu Dicci un po' Iceland 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 Island Islandesi sono Ok Un po' Sono proprio andato Alla parte giusta Sì no vabbè Vabbè Simo tocca a te Dicci un po' La tua esperienza Per Final Fantasy XII Credo che Final Fantasy XII Sia fra tutti Quello che ho recuperato Più tardi Perché Lo avevo Non l'ho mai giocato Su Play 2 Non l'ho mai più Recuperato Praticamente Fino all'uscita Su Switch Un po' Perché Backlog Quindi Capite che Avevo una quantità Di giochi Fuori di testa Da fare fuori Però Quando è arrivata L'occasione Di provarlo Proprio per il lancio Su Switch È stato il momento Perfetto Per provarlo Non soltanto Perché appunto Avevo tempo libero Avevo la possibilità Di metterci le mani sopra Ma anche perché Il fatto di giocarlo In portatile Mi ha dato Un certo vantaggio Sapete che io Viaggio molto Per lavoro Quindi stare attaccato A una console fissa Non mi è Proprio facilissimo Avercelo in portatile Forse mi ha aperto Una prospettiva Diversa Anche di quello Che è il gioco Non volevo parlare Troppo Del passato Più che altro Perché alla fine Avete raccontato Tutto voi Già in modo Abbastanza completo Quindi Non volevo soffermarmi Tanto su quello Quello che volevo Dire io È che a me È piaciuto molto Anche Anche la trama Devo essere sincero Cioè a me È una delle critiche Più frequenti A Final Fantasy XII La trama Cioè tutti dicono Che non ha trama Però non è vero Che non ha trama Ha una trama Che non è La tipica trama fantasy Di un Final Fantasy O di un gioco Di un gioco simile Si orienta molto di più Su temi politici Quindi Probabilmente Questo è stato Un po' Un handicap Quando è stato lanciato È stato Anche un handicap Come avete detto voi Che è arrivato Molto tardi Praticamente Nera PS3 Quindi poche persone Lo hanno calcolato Rispetto a quello Che meriterebbe Però sinceramente Credo che l'unico Non l'unico Va bene Però il più grande Difetto di questo gioco Siano Van e Penelo Che senza Senza mezzi termini Sono semplicemente Due pixel Due pezzi di pixel Incollati lì a caso Per stessa Missione di Square Tra l'altro Se non sbaglio Ci sono state Delle dichiarazioni Fatte poi Negli anni successivi In cui Hanno detto proprio Che in teoria Inizialmente Non mi ricordo Se doveva essere Balti In protagonista Bash No bash Doveva essere Bash Ma Pensavano che La storia fosse Troppo Per i giocatori Troppo pesante Troppo poco fantasy Rispetto al solito Quindi hanno voluto Soprattutto perché Mettevano un adulto Come protagonista Non un ragazzo Quindi hanno voluto Buttarci dentro Un ragazzo E all'ultimo Hanno creato van E dietro Le hanno messo pennello Però sono Sono avatar Sono semplicemente Gli avatar Sì No Giocandolo Ti rendi conto Che io ci ho provato Io ci ho provato Te lo giuro A dire Proviamo a partire Senza 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 nessuna idea In testa Proviamo a partire Da zero Vediamo com'è Però te ne rendi Proprio conto Che sono Costantemente Fuori luogo In quello che dicono Si vede proprio Che non erano previsti Le hanno cacciati Lì a caso E fine Però a me è piaciuto Sinceramente Ho trovato Che sia un bel gioco Un ottimo gioco A me il Gambit È piaciuto Proprio perché Lo puoi creare Come vuoi tu Sinceramente A me Ha divertito moltissimo E aiuta un sacco Nel processo di farming E tra l'altro Credo Che la versione Switch Non è più La migliore Perché hanno Le features Che erano Prima esclusive Sono arrivate anche altrove Però credo Che abbia la cover Più bella La copertina più bella Sinceramente Perché hanno realizzato Dei Dei nuovi artwork Apposta E in teoria C'è anche sulla versione Xbox Ma la versione Xbox Tipo la vendono in due paesi In tutto il mondo E infatti Mi ricordavo Se fosse solo digital Tipo quell'Xbox Invece la vendono C'è ma mi sembra Che sia soltanto In Giappone O in India Tipo eh C'è in pochissimi posti Anche l'X E invece Invece da noi È arrivato per Switch E questa qua Secondo me È una copertina Bellissima Nuova Con le due facce Insomma Alla parte classica Dovrei avere il poster Il posterino Olografico È dietro di te Il poster Il poster enorme Però della versione PS4 Però a me L'artwork originale Con i giudici Mi piace un sacco Ma in generale L'artista che lavora Su Ivaris È rotto Questo praticamente Mi piace molto È molto bello Però Non so Mi piace davvero Un sacco Quest'artwork C'è un'altra Che è proprio Bello 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 Bene Invece Van e Penelo In Revenant Wings Nel seguito Ci sono caratterizzati Molto meglio Cioè si vede Che quello è un gioco Per loro Piuttosto che Final Fantasy XII Meno male Meno male Sì sì Come curiosità strana Di Final Fantasy XII Allora siccome Gli attacchi sono in tempo reale Quindi c'è tutta l'animazione Il personaggio effettivamente Deve compiere l'attacco E connettere fisicamente I personaggi vengono presentati Con delle classi predefinite Nell'originale Erano tutte free throw Poi con il Con la Zodiac Più o meno Hanno delle classi preferite Quindi Baltier All'arma da fuoco E Fran All'arco Problema Le animazioni custom Di Baltier Con l'arma da fuoco Di Fran Con l'arco Rirendono gli attaccanti Più renti Con quei tipi di armi Che cosa Solo perché sono più Cioè ci mette più tempo Per fare l'animazione Quindi anche se la veloci Farà comunque meno danni Degli altri Che si usano l'arco E lo stesso pegami Da fuoco È una cosa Un po' Stavola Però Stavo cercando L'artwork Olografico Quello che vuoi Anche lì Per la conversione Credo che L'abbiano fatta Molto bene Non mi sembra Di aver visto Bug Nei problemi Gira benissimo Allora Io ho visto La prima volta L'ho visto Su PS4 E quello che mi aveva lasciato Veramente Mi aveva fatto impazzire La palette di colori Era Avevano mantenuto Una certa fedeltà Ai toni originali Però avevano dato Una freschezza Un calore Una vivacità Ai colori All'aperto Perché lo facevano Sembrare Veramente un altro gioco E per me È stata proprio Cioè Cambiato il gioco Era Era da matti Vederlo così bello Quindi C'è da dire che Era l'unico L'unica direzione In cui potevano andare Era quella della palette Perché Il gioco Già all'epoca Era avvantissimo Tecnicamente Ed è uno di quei titoli In cui L'altra risoluzione Uno dei pochi titoli Di cui abbiamo parlato Stasera In cui l'altra risoluzione Forse l'unico L'altra risoluzione Ha giovato all'immagine Se in tutti gli altri casi L'altra risoluzione Ha Esposto Limiti Barbatrucchi Ha messo In luce Quelle che erano I segreti Di trucchi del mestiere In questo caso Credo che già L'immagine originale Renderizzata Ad altra risoluzione Fornisse un risultato Migliore A prescindere Perché era folle Era folle La mole poligonale Dell'originale Su PlayStation 2 I personaggi E i personaggi Erano bellissimi Quindi poi Mi hai fatto pensare Dicendo questa cosa qua Una delle cose Che mi è piaciuta di più Come Colpo d'occhio Ok E l'espressività Dei volti Cioè Mi è piaciuto Un sacco Perché Il volto Non è un pezzo Di pixel Non è un modello Fisso Ma È molto Molto animato E per quello Che era all'epoca Perché alla fine Le remaster Non hanno aggiunto animazioni Comunque sono quelle Comunque ho visto anche Dei confronti Con l'originale È molto bello Perché li rendono Un sacco espressivi E ci sono Un sacco di scene Abbastanza strette Sui personaggi Mi stai per interrompere Vai No 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 Volevo solo dire una cosa Su questo tema Non dimenticarmelo Che secondo me C'è un trucco Che essendo i personaggi Molto realistici In proporzione sicuramente Rispetto al 10-12 Soprattutto nel taglio degli occhi Che è molto più ristretto E si lavora molto Di sopracciglio Di espressività Proprio a livello di Di essere corruciati Preoccupati Le tematiche sono pesanti Quindi secondo me Hanno risparmiato Cioè sono stati fortunati Ma anche abili Nel creare una modellazione Poligonale Che si sposasse bene Con questa ambientazione Non avesse bisogno Degli occhioni Alla Yuna O alla Riku Che potesse funzionare Anche con dei volti Molto dettagliati Che però in fondo In fondo Sono un po' più furbi Ecco tra virgolette Prosegui pure No vabbè Ci sta Comunque Dal mio punto di vista L'hanno fatto bene È proprio bello Sì sì Sai che voleva dire qualcosa Che lo vedevo sorridere prima Non so se voleva intervenire No no Non particolarmente Ok Boh Ah che bello Battier Mamma mia Cioè c'è il gay Che sale in me Quando vedo Battier Ah Hans Oro Grand Hans Oro Eh lo so lo so So che qua Chewbacca C'hai il pelo Nel punto giusto Sì Questo è il Chewbacca Che vogliamo Esatto Questo è il Chewbacca Che vogliamo Sentite Riportiamo Riportiamo la discussione A Più miti consigli 2020 Fai la fantasy 12 Per switch Sì o no Emil Sì Aggiungo che Simone ha ragione Sull'artwork più bello In assoluto Per switch Anche perché è l'unico In cui Tutto l'artwork del giudice È nella copertina Perché negli altri È sempre tagliato PS2 e PS3 Non c'è sotto e sopra Switch è perfetto Quindi sì Sì Ok È vero perché La scatola è più lunga Giusto Cap È troppo lontano Non posso arrivarci Cap 2020 Fai la fantasy 12 Per switch Giocatevelo Semplicemente Siate un po' Mente Aperta E leggete tra le righe Per godervelo al meglio Però Secondo me È uno di quei giochi Che vale la spesa Ho un vuoto di memoria È in italiano Giusto? Yes Yes Va giocato in italiano O in inglese? È doppiato Quindi Comunque le performance Secondo me Vanno sentite in inglese Perché rendono Molto di più Delle giapponesi Uno dei rarissimi casi A parte Kojima Praticamente E Per la traduzione Credo che va bene Anche l'italiano Non ho memorie Di strafaccioni Particolari Ok E invece Giustamente A Simo Avendo avuto L'esperienza Direttamente Con questa versione Direi che non c'è Positivo Promosso? Consiglio Caldamente Ripeto Quello che dissi Già all'epoca Nella recensione Per me è un gioco Che va giocato Che merita La sua seconda chance Che effettivamente Pare aver avuto Quindi Sì Per me sì È la portabilità Da tanto Allora Mai giocato Ma un po' di curiosità L'avete messa Meno male Che non abbiamo Spoilerato niente E Allora Visto Colgo l'occasione Anche se abbiamo Già detto Anche 2020 Quindi abbiamo chiuso Con la fantasy 12 Promosso Così posso fare il taglio Secondo me è proprio Un'esperienza diversa Devo essere sincero Potresti apprezzarlo Di più Dopo aver giocato A fare una fantasy 7 remake Proprio per il sistema Di combattimento Perché secondo me Ti dà delle libertà Che farebbero bene A fare una fantasy 7 remake Soprattutto il discorso Dei gambit E la possibilità Di fermare davvero L'azione E spostarsi Da un personaggio All'altro Con l'azione ferma Che è una cosa Di questo titolo La mancanza Da fare una fantasy 7 remake Qui grazie per tutto il pesce Dice Ce l'ho già nel carello Di amazon Mi avete convinto Unteriormente E ci fa molto piacere E poi mi piace tantissimo La narrativa cinematografica Piena di cutscene Bisogna un po' Scendere a compromessi Con l'esplorazione È un gioco È uno di quei Final Fantasy In cui Lo spostamento Nello spazio È quasi uno a uno Cioè Se tu ti devi muovere Da un regno all'altro Sappi Che anche se non hai C'è la world map È il gioco Questo qui è Probabilmente Il primo Final Fantasy In cui la world map È il gioco Quindi io esco Dalla città Sono nella World map Non c'è stacco Quindi se l'altro regno È lontano È lontano E quindi fai sessioni Molto lunghe Di attraversamento C'è da dire però L'ambientazione è affascinante Alcune architetture Sono anche intriganti Non esagerano Nel riciclo E comunque Ogni due per tre Ci sono scene In interazione Ospiti Quattro per Quattro per Quattro per Quattro per Ok Comunque Rendono molto più Leggere entrambe Cioè Non ti pesa più Così tanto Io l'ho giocato Il gameplay Che non fossero Boss fight O cosa Togli la storia Togli le boss fight Adesso l'ho fatto Tutto con quattro per Quindi in realtà Ho anche Ridotto un pochettino I tempi Io ci ho messo Quaranta ore Ma probabilmente Ce ne puoi mettere Anche un po' di più Comunque Aumentando la velocità Non senti così tanto Il peso Né di spostarti Né di Di farmare Perché se ti Costruisci bene Le gambit Le battaglie Le fai in fretta Confermo E volevo solo Dire che non l'ho detto Come critica Quello del mondo Da esplorare Ma solo per la percezione Di quello che è La struttura del mondo Perché il tempo Poteva anche essere Affascinante addirittura Poteva essere quasi Un plus al tempo Ovvio che oggi Vai La prima volta Che devi fare Un viaggio lungo Ti danno anche I soldi per il ciocobo Eh Sì 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 È vero E E Cos'altro Cos'altro Non mancava da dire Vabbè No non è che abbiamo Promosso solo il 12 In realtà abbiamo Promosso anche il 10 Il 10-2 E abbiamo detto Che il 7 Si può giocare Lascia perdere Poi il giudizio Del gioco Noi dobbiamo Parlare della Versione Switch Dei titoli Quindi è una cosa Un po' più Un po' più